Il colloquio psicologico è l'incontro di due personalità, di due destini che proprio con il loro incontrarsi a volte è capace di imprimere ad un'esistenza una direzione nuova, sbloccando una precedente situazione di paralisi e di sofferenza. Di fronte a queste storie però i nostri parametri di sanità e di malattia, di curabilità o di incurabilità, i nostri parametri di ciò che è giusto fare oppure no, hanno ben poco valore, perché è l'anima, cioè l'inconscio, che ha imposto la sua strada, la sua soluzione, con l'inquietudine che le è propria. Del resto, come sottolinea Jung, il mistero della vita è sempre nascosto tra due, il desiderio è sempre desiderio dell'altro. Laddove parlare, come direbbe Lacan, è anzitutto parlare ad un altro. Vi informo che faccio consulenze psicologiche online. Per richiedere una consulenza basta scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473. Inoltre vi invito a leggere i miei libri che si trovano soltanto su Amazon. Buona giornata.